Salvini sta usando 100 strumenti di pressione, perché il problema di Matteo Salvini è che nell'europea di 4 anni e mezzo fa prese oltre il 30% dei voti, oggi i sondaggi lo danno intorno al 10, forse anche sotto, cosa deve fare? Deve cercare di rosicchiare un po' di consensi alla Meloni in un rapporto di forze interno alla destra che si è rovesciato, quindi è la Meloni che oggi va verso il 30%. Per Salvini ogni tema è buono per smarcarsi, il primo che forse è il più importante è la politica estera, le alleanze, perché il fatto che Salvini sabato e domenica riunisca a Firenze tutti i partiti o molti dei partiti sovranisti cosiddetti che sono per lo più partiti che non hanno mai amato i finanziamenti per l'Italia da parte dell'Europa, questo è in chiave anti-Meloni, quindi marcare la differenza da un è uno che invece cerca di avvicinarsi faticosamente al Partito Popolare. Pensiamo alla riforma delle pensioni, pensiamo alle riforme istituzionali nelle quali Salvini ha sempre detto io faccio il premierato se voi mi date l'autonomia regionale, quindi tutto questo dice che le bollette sono solo l'ultimo caso sbelli, ma ce ne saranno da qui a giugno, al 9 giugno quando si vota per l'Europa, altri 50. Il tema è che cosa raccoglieranno e sono d'accordo con Carlo Calenda sul fatto di questa demagogia che anima un po' tutti. Il problema è che tutto questo a mio avviso almeno per adesso sembra privilegiare soltanto la Meloni perché i sondaggi dicono se ci crediamo che le posizioni sono immobili, non è cambiato molto rispetto a un altro.